Si ritorna pian piano verso l'albergo, molto lenta, abbiamo almeno un'ora e mezza tutta a piedi, forse un pelino di più però, quindi con molta calma ormai conosciamo già bene la strada. Abbiamo già partito la casa di Beethoven, purtroppo non l'abbiamo visitato perché 10 euro per mezz'ora onestamente mi sembrava un po' troppo, forse sono state un'ora, un'ora e mezza, diceva beh hai tutto il tempo per visitare quello che vuoi, ma così no, non c'era proprio il tempo. Poi siamo arrivati all'off garden e l'abbiamo attraversato tutto, insomma abbiamo già fatto un bel pezzettino. E ora siamo, faccio un video mentre ci provinquiamo, quasi poco dopo l'inizio della camminata, abbiamo tutta la strada dritta fino in fondo. E arriveremo più o meno per il mercenario. Un saluto da qua, ci vediamo più tardi.